Hey yo guys, bentornati nei JC, io sono Jake, e io sono Si, per ritenere che lo siamo, seconda tappa del tour, facciamo una cosa, io dico Bubu e vediamo cosa risponde nel concorrendo, Bubu, Milano, Bubu, Milano, Bubu, Milano, ok, ok, vabbè, la regia ha detto setting e buttatela fuori, comunque mi sa che siamo a Milano, la città di Shiva Rondo, io dico Shiva, Shiva Rondo, Oh Shiva, fa 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 Siamo qua, Smash World Fest Tour, il primo ha dato una bomba, che divertiti, secondo Milano ha vinto, come sai, come la vede la roba? La vede la roba caliente perché comunque, i ragazzi sono calienti, i ragazzi sono calienti, va vedo, roba nuova, vedo, roba buona, però, parliamo meno, e iniziamo, facciamo, let's go, Smash World Fest Tour Ebbene sì, come sono i JC, sono sempre gentlemen, iniziamo con una signorina Vediamo Com'è la roba? La roba è tic È tic, è tic, è tic Vediamo chi smashà, chi passare Ciao, mi chiamo Prinsiglia, Prinsiglia01 su Instagram, e siamo qui per vedere se c'è da assaggiare o pure dopo Ehi, yo, boy, come on! Allora, il nostro primo concorrente, Smash World Fest Ehi, sguardo intensi, eh? Smash, ha stile, ha il tatuaggio, è clean, è clean, bravo Yo, boy, ehi, guarda un sacco di black Allora, sei clean anche tu, hai stile, però faccio pa Perchè? 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 Ok Ok Qua vedo Nome? Roger Roger, capelli assurdi Stile assurdo Sei modello? Sì Beh, eh no, ho sbagliato! Smash! Ho sbagliato! Oh! L'emozione Smash Baby grandami Nome? Bruno Bruno, guarda, già ti guardavo Eh, Smash Ah, grazie, grazie Ciao, lì, che già davanti a vedere Damn! Allora, anche te È clean? È clean Ok Hai latitude Smash Oh, aspetta, aspetta, ci vedo il doppio cosa È Smash Perchè sono due Eh Lorenzo Esatto, noi, noi ci conosciamo già Si conoscete Come, 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 come vi conoscete? Comunque è Smash Smash Ok Siamo caldi Passiamo subito a un maschialino Ciao, sono Lorenzo Milani Lorenzo su Instagram Siamo qua a Milano Smash Your Pass Tour Vediamo se è calda Ah, ma, qua abbiamo delle facce che si conoscono Qua abbiamo delle facce che si conoscono Il primo Smasher Pass Mi ricordo che è stata cattiva lei Sì, è stata cattiva Ma, sarò un bravo ragazzo e io dico che era Smash Allora, nome prima di tutto? Matilde Allora, sei una bellissima ragazza, giuro Ma non sei proprio il mio tipo Quindi direi un pass Ciao Asia Asia Lorenzo Piacere Piacere Piacere, sono Andrea Lorenzo Allora, direi Smash Perché mi piace la tutina Molto clean L'occhiale Questa è la tutina o quello che c'è nella tutina? Direi entrambi Oh, ok, grazie Salve Ah, ok Giusto Il prossimo Lorenzo Emily Repubblica Domenicana Già chiesto C'è Già c'è Però c'è una domanda essenziale, bro Devo chiedere gli anni qua 0-5 Pass, brother Lorenzo Sabrina Sabrina Di dove sei? Albania Albania, ok Allora, c'è sempre connessione tra Italia e Albania Però stavolta è un pass, ve lo giuro Lorenzo Giulia Giulia, bellissima ragazza È intonata anche al nostro MVP Quindi io Smasherei entrambi Ma se non ti offendi Smasherei solo adesso stasera Non lo fanno C'è lei che ha traduzione con lo Smash Capito Ma perché lei già lo sa Lei già lo sa che c'è Smash e di Smash Ma qui c'è stato Smash e di Smash Strasmash Ci sono stati dei precedenti, sì Ho assaggiato, assaggiato No, raga, dieci 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 Proprio bello Dieci Dieci No, però non sono disfacente Vabbè, ci siamo uccisi a vicenda Sette che va all'otto Ok Quindi è Smash Ha Smashato qui Ok, idee chiare? Si è tutto pulito Signorino Oh Come stai? Ma Sono Giulia, Jules.pozzoli su Instagram E siamo qui per Smashare o passare tutti Prego Origini Colombiano Colombia Latino Dai Giulia Allora io sono Team Africa Però Troppo basso Perci Latte e biscotti fratello Prego Giulia Poi dagli allelecchiali Bene Oddeeeew 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 Smash Smash Subito, guardi Oh, ti depresso Ha! Ma che hai fatto questo? Slow motion Giulia Ma che hai fatto questo? Perché? Voglio guardare i bambini in faccia Lo sguardo Ah Origini Marocco Ovvio Ok Ok Ho avuto brutte esperienze con Marocco e tutta quella zona la quindi Tu su quella zona? Direi il PES Però per la simpatia Smash Hai vinto il PES Rover Giulia Smash Smash Ok Non parla tanto lui Non parla tanto Ciao Giulia Lorenzo Che l'altro eh Eh Però c'è un problema Questa Fammi dovinare E' bianco Eh già Bene Sì raga basta I JC sono contro il razzismo Ok? Bianco, blu, rosso, giallo, verde, rocciore, noi Si assaggerà Si assaggerà la parola ricredere E' il problema che già i bianchi, i bianchi, i bassi, cioè avanzano Ma non sono tutti uguali eh Non so In poche parole stai dicendo che c'è un big bamba No, no, non dico quando Dunque eh Eh PES Ok Ciao a tutti, sono Rover, Rover Rodriguez su Instagram e vediamo come va qua Rover Giulia Giulia No Giulia spinge Ha spinge, cioè vuol dire proprio oh, è stata smash questa? No, si, smash Certo Ma cos'è che procede anche? C'è salito a fianco Sì e anche il vestito, spacca, non l'avevo mai visto Ma è lì con super il vestito, non lo so Prensiglio Guarda sincero, di solito Non saresti il mio prototipo però sei simpatica, cazzuta Mi piace Sì Smash, smash Beh Allora ho visto un paio dei tuoi video Le vostre video Sincero Io ho avuto la reputazione No, no, no È cambiata È cambiata È cambiata È cambiata Ha fatto un bel inclinaggio Sì Sì Oh Dio di fiducia, sederea cattiva PES PES Il vostro più superiore Sì no Aspetta, aspetta Vediamo le scarpe Team E4B E4B Bianche PES Ah così non mi piace Perché? Perché? Non mi piace È il tuo best Robert? Italiana? Sì Stava Smash Sì Oh Robert Thank you Cazzo ha detto che era 0,5 Me l'ha detto me l'ha detto Me l'ha detto Quando non sape più che era 0,5 era Metà Dominicano Metà Italiano Dominicano Eh capito Per la patria Dai Sincero Robert No PES Mi dispiace No Ok Io giuro Quanto sacco di PES Sì sì Comentiamo Comunque Il succo JC trovate solo da JC A 1,99 euro Iscrivetevi Comentate Avete un supermercato Sono Sabrina Sabrina Zara è su Insta E oggi vediamo la situazione Nome Barienzo Hai stile però Grazie PES PES No adesso devi dare Non per venire Ok ok Però non sei Sei bianco Ok Anche tu No Adesso mi fa ridere Come lo dicono tutte Come se loro fossero nere Capito? PES SMASH Damn Hai guardato bene Devo ripetere la stessa frase Che han detto finora Ai stile però Aaaaaah L'altezza conta L'altezza conta Anche la volta Anche la volta Ma poi in realtà siete altri uguali eh Appunto per quello Se io sono bassa serve il tipo Ah ti sei ugualto alto Damn Più occhiali Cioè le tipi pretendo Altro gli occhiali Smash Smash No Torvali Trovali 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 E' smash no? Anzi poi vieni Allora solo per la convenzione Quello che hai dato è bello No ma No 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 Che c'era il capo? Sabrina Gli occhiali? Sei pretensiato oltre? No Smash Eh lo so Allora, se fosse vendicativa, sarebbe perso, però lo sono quindi... Io sono Cabo, su Instagram got.cabo, siamo a Milano a S.O.P. S.O.P. S.M.A.R.P.S. Allora, il Drip c'è, in che anno sei? 2004. L'anno c'è? Anzionità? Alpanese. Si chiama Giulia, ho avuto problemi con quelli della mia nazionità, ho avuto problemi con quelli che si chiamano Giulia. Quindi il nome dovrebbe fare... Si, però... PES per la simpatia. PES per la simpatia. Eh, c'è poco da dire, non serve neanche se presente o niente. L'EF è hard e questa è smash. Grazie, grazie, eh? Eeeh! Piacere, Cabo. L'outfit mi piace, devo essere sincero, l'outfit mi piace, sono una bella ragazza e tutto. Amen! Ok, però quelle scarpe... Sono Jordan11. Vai giù, vai giù, vai giù quelle scarpe. Con le scarpe sono da pulire. Da pulire! Pulire! Sono Jordan 11, sono Jordan 1 più 1 Se ne ho le Jordan 11 io, qual è la persona Jordan 11? Amore mio Ha detto amore mio Sai cos'è da pulire? La tua bocca è pozzolenta, quindi levati dal pollo Stolita battuta Le scarpe qua sono pulite Però non sei il mio tipo Però sono la bar ragazze Che gano sei? Non te lo dico Non si chiede l'età di una donna Ok, adesso E non lo scoprirò Andrea 360, oh basta No, no, un 360 me lo concedi Come? Un 360 me lo concedi Non sai cos'è? L'inglese Questo ditino Se vuoi ti lascio un anello in questo dito Dai Buonasera Buonasera Lei è sudamericana È sudamericana È sudamericana? Sì Ok Per me sudamericana vale per 10x A stile non si può dire niente Smash C'è poco da dire È caliente Ciao mi chiamo Emily Sono Italo Dominicana e il mio Instagram è emiliexpritti.2 Ok Smash o pace? Smash Semplici, veloce, pulito, clean Qua Modello così Smash Piego Piego Quanti anni hai? 21 Troppo grande Troppo grande Quindi pezzo Ok Troppo grande Vabbè Troppo grande Vabbè dai sappiamo già dai Te gusta mamma e te gusta poco Smash Immaginavo Che se ne frega va bene lo stesso Mi piace come si veste però Io ci vedo ancora eh Smash Emily Sì ma basta Super Smash Super Sì Ciao mi chiamo Bruno Tentori Bruno Tentori su Instagram Vediamo un po' se oggi ci saranno delle tue Tipe da smashare Come stai? Ma che origine hai? Questa da fuori Italia Ahhhhh Ecco qui No 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 Ok 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 Allora Ci siamo già presentati Smash subito Piacere Primo Prigine hai detto prima Alpaneta Piazza Non sei il mio tipo Ok Mi spiace Piacere Bruno Devo dire Smash Non mi piacciono tanto le tue scarpe però Smash lo stesso Piazza Allora te da prima Sei simpatica Mi piacciono le vibe che dai Quindi Smash Posso chiedere? Chiedi 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 99 Si assaggia lo smash Allora le tue scarpe non mi piacciono Lascia le scarpe Guarda qua Poi Non so Hai l'aria Con lui Sei stata un po' cattiva Ho risposto Passi 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 Anche te sei il mio tipo Passi 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 Uno Niente Se tu che ti farà Smash Hai visto come sono i neri? Perché chi li ha avviso? Smash Spaccato Spaccato Ragazzi vi raccomando Su Insta Bruno Ok Ok Fai bravo Lui è ivoriano Quindi è il serve Applausi per Andrea Come si fa il capo? Sono carichissima Mi piace una roba che stai E nuova merce Devo dire Capito? Proprio diversa Collezione nuova Collezione nuova A me piacciono le cose nuove Allora Cos'è collezione uomo estate? Collezione uomo estate Vabbè noi siamo in estate Allora Devo essere sincera A primo impatto avrei detto di no Però Però c'è qualcosa Ti levi un attimo l'occhiale per favore Mi fai un giretto Un giretto Un giretto Carino Tipo così Lo fai per favore Così no Però lo faccio Lo faccio Allora Lo faccio Smash 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 Allora Mi piace come ti vesti Mi piacciono i tuoi capelli Mi piace il tuo sorriso Mi piace tutto Smash Smash Non c'è tanto da dire Smash Ti porto a casa Volentieri Allora Piacere mio Piacere mio Cos'è questa cosa rossa sotto? Mutanda Mutanda E cosa ci hai disegnato? Posso saperlo? Allora ci sono disegnati De Babbo Natale Aspetta Tira giù Allora Allora sarò molto sincera Mutanda Babbo Natale Però Mi dispiace Quindi qua va bene E qua no Esatto No le mutande La prossima volta è più bella Della Befana La prossima volta Cioè ma tu ne hai capato Dall'inizio Qua l'ho fatto solo smash Direi smash Però Perché hai i pantaloni giù Così? Ti piace Mamma mia Sono proprio indecisa Quella cosa Mi fa pensare A dirti un bel Pass Perché è il culo Più fuori del mio Però Non lo so C'è quel qualcosina Posso rivedere il tuo culetto Per favore Il mio deve essere più sotto Per forza Se no è pespro Dai smash Va bene Guarda bene Sto guardando molto bene Non ti preoccupare Detto Stra sincera Ti hanno passato Praticamente tutti Tutte scusatemi Però Non è tanto questione estetica Ma hai presente Quando una persona Ti fa sentire Con la bella sensazione Che dici Secondo me Questo qua è un bravo ragazzo Ti Esatto Ti pezzo No Ti smascio Scusami Ho sbagliato Ti smascio Allora vorrei fare una pubblicità Con te Con i capelli al vento Però mi dispiace Ma non Ti pezzo Ti pezzo Perché non mi piace Non lo so Mi piace la merce Perché ha dei cappellini Che c'è La pubblicità Allora l'imprecazione Che hai sentito prima Era rivolta a te Io ti smascio Di brutto Perché è impossibile Non guardarlo Sinceramente No no devo essere sincero È impossibile non guardarlo Ciao a tutti Sono Roger Su Instagram Roger Rodriguez E vediamo come va qua Salve signorina Allora Smash or pass Ti vorrei dire Che non sono rancoroso Ma non è vero Non parto Non ti avrei smashata Comunque Non ti avrei smashata Comunque Quindi già lo sai Sicurissimo Sicurissimo Aspetta Aspetta C'è la roba Ah c'è la roba C'è la roba Vediamo Capito Tu È molello Ok Ok Come on Buongiorno Ok Per Emily Smash Aspetta Poi ha lo stile Pazia Scar Mi piace Smash Emily Smash Albania Cose Ho già avuto qualcosa Can Albanese Mi piace il tuo sguardo È smash È smash È smash Dai Già lo sai Già lo sai È smash È smash È di solito Non sei il mio tipo Però Anche lui l'ha detto Eh sì Perché Se faccio a perdere Non penso Lui dice Eh bravo Però Già lo sai Smash anche per te Thank you Per l'età Non posso Sono 99 Lo accetto solo perché gli occhiali veloci Grazie Come fai a non sapere cosa sono Scusate son vecchio Vabbè comunque andiamo avanti Roger Asia Mi chiamo Sai 2005 Nazionalità Colombiano Eh dai rispetto latino Smash Roger Eh figata Qua il curriculum è sporco Come le scarpe Nooo È brutto Nooo Nooo Menooo Menooo La storia parla e non c'è da dimenticare Sei sul cattivo eh Ciao sono AsiaSkinca Su Instagram Trattino basso AsiaSkinca Trattino basso Allora Io ti smash Perché sei bello Sinceramente Grazie Hai dei bellissimi ricci E poi gli occhiali veloci Dai Sinceramente Non porto rancore Quindi smash Lo pensavo prima Lo penso adesso Grazie Ripeto Sono coerente Quindi smash Niente da dire All menge Certo Clean 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 Tu hai passato le ris per le scarpe Guarda le tue Ah perché? Pulisci E ieri sono andato in giostra ragazzi per quello Ah ragazzi aspetti È andato in giostra ieri Ma che ne scontro il casino Ma però una cosa una cosa Non pensavo al carattere la ragazza Ti avrei smashato Devo giuro per il carattere e tanta roba Slow motion Spesso Spesso Sei troppo alto Troppo alto Sudi un po' Eh ragione Non so se te l'hanno detto Ma è arrivata l'estate anche qua Se ti strizzo ci faccio le patatine del mcdonald Capisci? Io direi che Io direi che ne ho mangiate un po' troppe Però di patatine del mcdonald Io non mangio le patatine Comunque le gambe più grosse delle tue Ti potrai rompere il cane Grosse sono grosse L'importante è che siano sode Ma qua non le vedo sode Secondo me sono sode Io che vado in palestra La sostanza c'è La sostanza ce l'è Non ho detto che non c'è Ho detto che a volte è troppo stroppio Deve essere giusto Non si fa body shaming Non si fa body shaming Ma se lei viene cattiva Io arrivo cattivo Slow motion Yeah Smash 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 L'ho detto L'ho detto Un applauso L'ho detto Slash my shot Finalmente Ciao mi chiamo Rich Rich for real su Instagram Vediamo oggi se la roba è smash Or pest Noma Noma Asia Pest È simpatico e tutto Però pest Non è dei miei gusti Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Smash 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 Nazionalità Italo-Dominicana Italo-Dominicana Cioè pace di stalinanza Ma c'è anche abbondanza Il tuo piatto preferito Tutti uguali Qua sei la sincera Riso con pollo Riso con pollo Smash Smash Piacere Rich Nazionalità Albanese Albanese Anni 2004 2004 2004 È delicato hai fatto 2000 euro Tu stai nascondendo qualcosa eh Ah ok ok Sono legale È legale è legale Smash È legale Solo perché sei legale Next one Smash 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 Next one Piacere Rich È anche più alta di me Anche se mi ha passato prima Però Smash Smash Questo vorrei dire l'insegnamento cristiano Nome? Dio Oh no 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 Noa no no no. Noo no 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 noers matilda nazionalità mi sembra che cittadinanza mi sembra troppo timida così ciao sono matilde gangsta amati su instagram come ti chiami ci stai gli occhiali veloci poi tocco di classe ma gli occhiali veloci torniamo a noi smash niente da dire da quello che ho visto non mi piace molto il tuo carattere quindi test non agli occhiali veloci peccato però l'occhiali lenti smash e mutande di babbo natale ma facendo un tocco di classe non è un regalo poi fa body shaming fa la mia migliore amica visto che lui mangia carni non mangia carni grassi non mangio carni succhie smash mi piace tatuaggio riguardo alla battuta di prima che hai fatto lei forse hai sbagliato fotocamera quelle calme sono sempre le più intergenerose quel colore tra ciao amici chiamo suarets sg suarets su instagram vediamo sarà la basmessa la basmessa la basmessa l'uomo la basmessa il castiglano l'uomo 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 sbagliati l'uomo come ti chiami? Ehm prima delle quattro Giulia gia spagli sei simpatico spagli un tattuale di un patto ma ho messo Eccolo mi piace la giacchetta Sbacca anche il tattuaggio lì in mezzo ma spesso tu i tibano mi sono un po' curioso di capire perché mi sono perso perché sono fidanzato quando ti lasci Non sono geloso, te lo dico. Se è cornuta la tipo non è colpa mia. Io sono Angel, DracoGabe su Instagram. Come ti chiami? Smash, smash. Smash. Quindi io sono un gorilla. Ci senti o no? Quelle banane nelle orecchie. Se io sono un gorilla, tu sei più scuro di quello di tua madre, ma ti vedi. Sei pure un gorilla puzzolente. Ma no! Ma ti lavi? Non hai l'acqua in casa? Te lo pago io. Guarda il tuo scarpe. Guarda la tua bocca. Intanto io i denti gritti ce li ho te. Banane, sostordine. Sai cosa hai distorto? Il tuo cervello, il tuo cervello è storto. Il mio cervello. Sì, il tuo cervello è strastorto. Scherzo della natura. Scherzo della natura. Pensi di avere più stile di me? Pensi di avere più stile di me? Vabbè. Non voglio mentire, non voglio mentire. Smash, smash. Grazie, un attimo. Aspettate, fermi tutti. No, non rimette. Non rimette. È troppo. No, 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 no. Tu mi hai smasciato. Sei stato gentile con me Non mi hai giudicato Mai giudicare un libro dalla copertina Mai giudicare un libro dalla copertina Con questo ultimo insegnamento Direi che possiamo tornare a casa Se vi è piaciuto mettete like Se vi è piaciuto E nei commenti Ne commentate la prossima tappa Perché vogliamo sapere dove andiamo Milano E chissà dove sarà la prossima tappa Come avete visto Su Instagram C'è stato un periodo di difficoltà Ma ditelo a tutti I GSC sono tornati